bentornati nel mio canale oggi facciamo una torta leggera per chi intollerante alle uova e per chi ha dieta perché ha pochissime calorie una fetta a solo 107 chilocalorie in una ciotola mettiamo 300 ml d'acqua e 20 ml di olio di semi io uso quello di mais e 50 g di zucchero e mescoliamo con una frusta poi aggiungiamo 260 g di farina setacciata 00 e 25 g di cacao amaro e una bustina di lievito vanigliato sempre tutto setacciato è facile da fare è velocissima mettete l'impasto in uno stampo da 24 cm con carta forno e infornare in forno già caldo a 180 gradi per 35 40 minuti statico eccola qui che profumino io adoro il cacao amaro fate raffreddare la torta e tagliate a fette è morbidissima mi raccomando continua a seguirmi iscriviti al canale e attiva la campanella ciao